. Uomini e donne anticipazioni, Paolo ha scelto, i giorni in villa con Angela e Marianna sono finiti. Uomini e donne anticipazioni, la scelta di Paolo, il soggiorno con Angela e Marianna è terminato. . Paolo Crivellina ha finalmente scelto con cui uscire da uomini e donne tra Angela Calloisi e Marianna Erno? È questa la domanda che molti telespettatori si stanno ponendo nelle ultime settimane. Il tronista ha deciso di prendersi del tempo per poter fare la sua scelta con la giusta sicurezza e consapevolezza. . Tutti in studio hanno criticato il comportamento di Paolo, che ormai sarebbe dovuto arrivare ad una scelta. . Eppure tra Angela e Marianna il Crivellin non sa chi scegliere. . . Dalle ultime storie delle due corteggiatrici, condivise su Instagram, sembra che il soggiorno nella villa privata sia finito. . Infatti, sappiamo che Maria De Filippi ha dato l'opportunità a Paolo di soggiornare in una tenuta, composta da tre spazi, quello centrale è stato assegnato al tronista, mentre gli altri due ad Angela e Marianna. . . Le due hanno così la possibilità di trascorrere del tempo con il Crivellin, passando con lui più ore rispetto alle classiche esterne. . Entrambe possono anche assistere ai momenti che Paolo trascorre con la rivale, se quest'ultima non decide di oscurarli. . Ora si Angela che Marianna sono tornate sui social dopo ben quattro giorni di assenza. . Tutte e due le corteggiatrici sono apparse abbastanza soddisfatte e molto sorridenti. . . In particolare la Calloisi ha condiviso una sua foto con scritto, Yamalive, ovvero sono viva. . Dopodiché, la corteggiatrice ha pubblicato, sempre sulle storie, un video mentre raggiunge un suo amico. . . Nel frattempo, qualche ora prima, anche Marianna ha scelto di farsi vedere sui social, dopo giorni di assenza. . La Acerna ha rivelato di essere a Milano, attraverso un video, e ha scritto la frase del singolo di Giovanotti Fang. . 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 Angela e Marianna lasciano un indizio tornando sui social. Siamo, dunque, vicini alla scelta di Paolo Crivellin? Non ci resta che attendere per scoprirlo. A breve ci sarà sicuramente una registrazione del trono classico e dalle anticipazioni riusciremo a comprendere se il tronista sia riuscito a sfruttare questa grande opportunità offerta da Maria De Filippi.